Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi guardo le notizie, vedo una notizia e dico, come? Allora, la svolta, leggo questo su diversi giornali, la svolta garantista di Meloni, rivedere o cancellare abuso d'ufficio e legge Severino. Allora, la Meloni, ci sono stati i referendum, vi ricordate? I referendum che poi sono falliti, dove la Meloni dice, sull'abolizione della legge Severino che voleva fare Salvini, lei dice, noi votiamo no, perché la legge Severino non è sbagliata, è giusta. Il problema non è la legge Severino. Allora, che cos'è la legge Severino? La legge Severino dice che se tu sei condannato, adesso non ricordo se da due anni e mezzo in su, se hai una condanna penale di carcere, da due anni e mezzo in su, non puoi più essere eletto al Senato, al Parlamento, che è quello che era poi successo a Berlusconi in maniera assurda, perché voi sapete che la legge non è retroattiva. Su Berlusconi avevano applicato la legge retroattiva, mostruosità. E così Berlusconi era stato cacciato dal Senato con la legge Severino perché era stato condannato per un fatto di Mediaset. Dopo anni e anni di processi, decenni di processi, erano riusciti a dare degli anni di reclusione, poi scontati a casa, eccetera, eccetera, a Berlusconi e così era stato cacciato dal Senato. Erano riusciti a buttare fuori Berlusconi dalla politica, oggi è rientrato. La Meloni dice, diceva, non si cancella la legge Severino perché è giusto che non ci siano pregiudicati in Parlamento. Se una parte della magistratura, ascoltatemi bene, se una parte della magistratura, una parte, utilizza la magistratura stessa e le leggi per far fuori politicamente politici non graditi, quindi, se una parte della magistratura utilizza la legge Severino per far fuori politici non graditi a quella corrente di magistratura, il problema non è la legge Severino, che è giusta. Il problema sono quei magistrati che utilizzano la giustizia per fare politica. E questo che diceva la Meloni è assolutamente condivisibile. Voi volete dei pregiudicati in politica, gente condannata che va a rappresentarvi? No. Ecco. Quindi, la Meloni è sempre stata contraria, addirittura aveva dato indicazioni al suo partito e agli elettori che volevano poi seguire questa indicazione, il referendum si vota no sull'abolizione della legge Severino. Assolutamente giusto. Salvini, invece, era per l'abolizione della legge Severino. Come mai? Salvini viene portato a processo per, secondo me, non ha fatto nulla di male, viene portato a processo per quel fatto della ONG, aveva fermato per sei giorni, poi la Lamorgese li ha fermati per undici, ma nessuno gli ha detto mai niente. Quindi, Salvini è accusato di tutte le mostruosità più mostruose del pianeta, ma non aveva fatto niente, secondo me, mia opinione, non sono un giudice, ma è la mia opinione che non ha fatto assolutamente nulla di male, anzi ha fatto il suo lavoro, bene. Allora, ha un processo e se dovessero dargli, non lo reputano un sequestratore, ma potrebbero dargli, potrebbero dargli, ad esempio, tre anni per abuso d'ufficio. E' perché in quel caso tu dovevi fare quello, dovevi l'email rispondere, non può... Boh, tirano fuori un abuso d'ufficio, gli danno tre anni e con la legge Severino Salvini ha finito di fare politica, ha finito di essere senatore. Immaginatevi, il processo a Salvini è aperto, perché i colleghi dei 5 Stelle e PD hanno detto sì a farlo processare. Lì poi si apre un altro capitolo. Quindi, Salvini durante questo governo potrebbe essere processato e condannato. immaginatevi un vicepremier, un vicepremier, ministro, condannato durante il governo. Immaginatevi le conseguenze, immaginatevi le conseguenze. Il governo Meloni potrebbe cadere. Ci siamo, siamo d'accordo? E oggi viene fuori la notizia, la svolta garantista di Meloni, cancellare abuso d'ufficio e legge Severino. La Meloni è famosa proprio per la sua correttezza rispetto alle sue idee. dici, io penso questo, non cambio idea, a meno che non cambi il quadro generale. Possibile che la Meloni faccia un'eccezione dicendo io devo salvare questo governo, a questo punto avevo detto che la legge Severino era giusta, adesso voglio cancellarla assieme all'abuso d'ufficio perché mette a rischio il mio governo? Sarà vero che la Meloni vuole cancellare la legge Severino? Abuso d'ufficio e legge Severino potrebbero proprio colpire Salvini. Secondo me in maniera sbagliata, ma potrebbero colpirlo e provocare un disastro in Italia politicamente. E' per questo che il tempo scrive la svolta garantista di Meloni? Ma è una svolta garantista per Salvini, per difenderlo e difendere il governo? O è una coincidenza? In politica queste gigantesche coincidenze non esistono. Davvero la Meloni, perché l'attaccheranno, la sinistra dirà come? Sei famosa per non cambiare, cioè per avere una linea retta, per non rimangiarti le cose, eri contro l'abolizione della legge Severino e oggi sei a favore? Verrebbe fuori un caso. Ma non so voi cosa ne pensiate, non so se realmente la Meloni abbia veramente intenzione di cancellare la legge Severino. Non ho sentito, ma i giornali scrivono. Grazie a tutti e arrivederci.